Stefano, buongiorno, Stefano Rossi alla Toscana in Bocca. Senti, come ti è sembrata questa Kermes? Una gran bella manifestazione, tanti esercizi di pistoia che si fanno conoscere, tutta roba buona. Il fatto sta che noi la terza volta veniamo, per cui vuol dire che ci è piaciuto. Senti, una tua classifica dei piatti? Allora, io ho avuto modo di assaggiare quasi tutto, però direi che la tartare è il numero uno. E poi anche la pasta e i fagioli è piaciuta molto. Benissimo, io una domanda però la voglio fare alla signora Rossi. Signora, buongiorno. Buongiorno. Senta, lei ha approfittato questo weekend lungo, se l'è presa comoda, non ha cucinato. Perfetto, ma solo quella è una buona, è già ottimo quello. Ecco, però, l'occhio della chef di casa, che piatti le sono piaciuti? Beh, io mi sono buttata sulle pennette, la frantoiana, buonissime, semplici, il gusto olio, oliva, insomma, è una cosa semplice, semplice, però poi mi sono fatta anche un bel crostone, però non mi ricordo più com'era. La cipolla, con le cipolle marinate nel vino. Ottimo. Senta, e oggi è a pranzo? E devo ancora decidere, devo andare a vedere, non so se mi butto sul ristorante Corradossi. Un pochino di pesce, domenica un po' di pesce. Bene. Voglio accontentare un po' tutti, giustamente. Bene Stefano, grazie. A te, ciao.